Quarto quesito, scheda grigia. Cosa succede con questo quesito? Un quesito molto tecnico si interviene sul funzionamento dei consigli giudiziari. Cosa sono i consigli giudiziari? Sono degli organismi territoriali di valutazione dell'operato, tra l'altro, dei magistrati. Il ruolo principale viene svolto all'interno di questi consigli da parte della magistratura stessa, che quindi si dice valuta se stessa. Da qui anche una percentuale altissima di voti positivi sull'operato dei magistrati. Con questa norma si interviene sul ruolo, sulle funzioni dei cosiddetti componenti non toccati o laici di questi consigli giudiziari, che sono poi appartenenti all'avvocatura oppure professori universitari, che quindi assumerebbero un ruolo maggiore giudicante, valutativo, ma più penetrante nell'ambito di questi consigli giudiziari. Ovviamente la norma ha carattere molto tecnico, non entro nello specifico, ma la finalità ultima del referendum è quella di stemperare questo principio di autovalutazione della magistratura attraverso un ruolo implementato dei componenti laici dei consigli giudiziari. Quindi chi vota sì vuole e accoglie questa impostazione referendaria e questo significa che con la vittoria del sì, previo superamento del quorum del 50% più uno degli elettori, si determinerebbe un ampliamento dei poteri dei componenti non magistrati dei consigli giudiziari. Chi vota no lascia il sistema sostanzialmente attuale, così come. Tutto qua e alla prossima.